Ma si può comprare un puzzle da duemila pezzi e non si sa dove cenare? Ciavi, nascerà bebè e non avrei ancora finito Vabbè veramente quanto ci impiegherai per questo puzzle? Io odio puzzle, li trovo snervanti, altro che rilassanti Ispirazione di un uomo Beh come facciamo a cenare qui? Niente, raga ceneremo qua sul nostro amato snack Guarda ma quanto tempo ci impiegherai? Toc toc Uno si può comprare un puzzle di duemila pezzi? Ancora? No mi ricordavo, li facevo da piccolo papà Ancora non mi ricordavo di duemila pezzi Vabbè ma che bella Puzzle nel duemila e ventuno? Si accettano scommesse? Scrivete nei commenti No mi ricordavo, non mi ricordavo di duemila pezzi No mi ricordavo di duemila pezzi Non mi ricordavo di duemila pezzi Non mi ricordavo di duemila pezzi Non mi ricordavo di duemila pezzi Grazie.